Vaccini, lo slittamento dell'obbligo vaccinale al 2019 da parte del governo continua a lasciare perplessi anche perché ormai il nuovo anno scolastico si avvicina a grandi passi e mancano direttive precise. Ho qualche perplessità anch'io perché il 2019 è lontano mentre l'inizio della scuola è tra 20 giorni. Io auspico che in questi giorni si faccia chiarezza e si faccia chiarezza per sempre nel rispetto anche delle indicazioni dei medici che credo abbiano tutto il diritto di dire esattamente quali sono i rischi per i nostri ragazzi. I genitori nel frattempo chiamano a scuola, vogliono sapere come devono comportarsi se i ragazzi saranno accolti con o senza vaccinazione mentre i dirigenti scolastici frenano sull'accettazione dell'autocertificazione. Mi devo un attimino confrontare anche con i presidi che incontrerò dopo la pausa diciamo di Ferragosto. Chiaro che l'autocertificazione, io l'ho già spiegato in più occasioni, è comunque un documento serio a cui io credo si debba credere nel senso che ogni cittadino in qualsiasi cosa certifichi e è consapevole che non può dichiarare il falso. Servono al più presto direttive precise e uguali per tutti, incalza l'assessore. Io spero che passato Ferragosto man mano che rientrano tutte le parti in causa ci si possa mettere attorno a un tavolo e trovare una soluzione ragionevole.